Un cordiale saluto, ben trovati da Tu per Tu, la trasmissione di Trentino TV realizzata in collaborazione con il Consiglio della Provincia Autonoma di Trento. Siamo con il Consigliere Provinciale di Fratelli d'Italia, Claudio Cia, ben ritrovato Consigliere. Buongiorno a voi. In primo piano naturalmente la sanità, perché siamo nel mezzo dell'emergenza sanitaria, lo abbiamo visto, era previsto questo picco verso fine gennaio della variante Omicron. Ancora si risente il peso della situazione sugli ospedali. Ecco, passato questo momento, bisognerà una volta per tutte mettere mano alla sanità per garantire che le emergenze siano quantomeno, non dico eliminate, ma contenute? Sicuramente dobbiamo mettere mano alla sanità, anche perché in questi due anni noi abbiamo toccato con mano la difficoltà della medicina territoriale, che è l'architrave del buon servizio sanitario. Laddove non funziona la medicina territoriale è inevitabile che noi abbiamo i pazienti che si rivolgono ai pronto soccorso e che poi vanno a finire nei reparti perché evidentemente se non si è sufficientemente seguiti a domicilio le complicanze a seguito di qualunque malattia sono sempre in agguato. Quindi io credo che l'emergenza sanitaria che abbiamo vissuto in questi due anni dimostra che il vero limite della sanità trentina, ma non solo trentina, anche nazionale, è soprattutto la medicina territoriale. Anzi, mi verrebbe da dire che si è falliti proprio in questo ambito. Sarebbe necessario anche garantire più posti letto, più terapie intensive, ma sappiamo che questo significa anche più personale, soprattutto preparato, che oggi scarseggia. Ma sicuramente i posti letto negli anni sono stati ridotti notevolmente sia negli ospedali periferici che negli ospedali centrali come Trento e Rovereto. Ma ripeto, se noi non curiamo la medicina territoriale, noi non avremo mai a sufficienza posti letto in ospedale perché è evidente che se manca il servizio sul territorio, i pazienti vanno a finire tutti, come ho detto prima, al pronto soccorso e nei ricoveri ospedalieri. Vorrei ricordare, ad esempio, che noi negli ultimi due anni abbiamo avuto 99 medici di base che sono andati in pensione, altri 18 nei prossimi due anni andranno in pensione, 43 ambiti territoriali sono sprovvisti di medico e di conseguenza tutte le persone che avranno bisogno di avere risposte ai propri bisogni sanitari non potranno che rivolgersi agli ospedali. Parliamo anche del reparto di oncologia. Lei proprio al riguardo ha presentato un'interrogazione proprio per la situazione del reparto. Sì, ho voluto portare all'attenzione dell'Aula la problematica dei pazienti oncologici. Noi purtroppo in questi anni ci siamo fortemente concentrati, a ragione, sulla problematica Covid, però secondo me ci siamo anche distratti su un tema molto importante che è appunto quello dei malati oncologici. Vorrei ricordare che mentre mediamente al giorno, negli ultimi due anni, abbiamo avuto 190 pazienti di Covid deceduti, abbiamo avuto nello stesso periodo 500, oltre 500 pazienti per tumore deceduti. Quindi io credo che questa è un'emergenza nell'emergenza e forse dovremmo tornare ad occuparci anche, mi verrebbe da dire, soprattutto adesso di questi pazienti. Dunque, sanità in primo piano, si direbbe in gergo giornalistico, sanità nel mirino. Ci avviamo verso la conclusione. Un'altra domanda di attualità. Brevemente, consigliere Cia, parliamo dei costi dell'energia, del gas, di questi rincari che pesano sulle imprese, ma anche molto sulle famiglie che a volte non riescono a pagare le bollette. Anche qui ho l'impressione che ci sia stata un'attenzione molto ridotta a questo problema. Certo, il Covid ci ha concentrati ad occuparci solo di questo problema, però nel frattempo ci sono create le condizioni perché la popolazione si vede aumentare l'energia elettrica e il gas. Per quanto riguarda l'energia elettrica, è abbastanza ridicolo che una terra che produce energia si trovi a dover subire i rincari energetici in posti, tra l'altro, non si sa bene da chi. Siamo in chiusura. Grazie al consigliere provinciale di Fratelli d'Italia, Claudio Cia. Ringrazio voi di averci seguito. Vi do appuntamento alla prossima puntata di A Tu per Tu. Arrivederci. Grazie.